rieccoci Buongiorno, stavamo già litigando io e Todd di prima mattina ragazzi, salve a tutti allora io ho questa voce, questa faccia, queste occhiaie perché dormo sostanzialmente con due cinghiali in camera Todd questa notte ha preso tutto il letto posso fare anche io la mia difesa e Dario che si è presentato dicendo io sono una principessa, non riesco a dormire se qualcuno russa madonna stanotte sembrava... no, 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 fermi allora vabbè ragazzi, faccio la voce profonda, sono un po' asmatico anche però allora vogliamo parlare... e allora lascia fare me e Todd vogliamo parlare di quando parli nel sonno? ogni tanto spara delle sillabe e delle vocali non comprensibili ma convinta prepara gli articoli ah, dici che funziona così? sì ok, ok, ho capito, ho capito c'è il flusso di coscienza alla Joyce bene, bentornati tutti quanti buonasera per voi, buongiorno per noi qui sono le 8 della mattina come sempre e noi siamo in diretta e siamo in coma noi siamo in diretta per rispondere a tutte le vostre domande ieri era la prima giornata di apertura dello show floor dell'E3 2016 quindi dopo le due intense giornate di conferenza siamo stati sui padiglioni South e West del Los Angeles Convention Center e abbiamo provato un po' dei titoli che sono anche disponibili per tutti gli avventori e anche visto qualche cosa behind closed doors cioè nelle salette private che i publisher allestiscono per presentarci la loro line up vi abbiamo raccontato ieri un po' che cosa abbiamo visto siamo stati da Nintendo, siamo stati da Sony non abbiamo visto tutta la line up di Sony quella di Nintendo sì perché qua è presente solo con Zelda Breath of the Wild che fra l'altro ha fatto un reveal con un trailer veramente incredibile spettacolare dal punto di vista dell'atmosfera ma anche delle novità che arrivano sul franchise insomma poi che cosa abbiamo visto? un po' di cose terze parti Tom ha visto Injustice ho visto Batman Arkham VR ho visto Lego Dimension che arriverà finalmente anche in Italia a settembre a settembre poi ho visto Attack on Titan si è provato anche qualche titolo indie sì esatto Todd ha visto Mafia Trail We Happy Few Horizon ho giocato a Horizon poi vabbè insomma abbiamo visto un po' di cose quindi adesso andiamo subito a prendere le vostre domande Simo FCP chiede se abbiamo provato The Last Guardian no andiamo oggi a provarlo per un'ora Todd parlaci di Mafia 3 cosa ne pensi? allora ragazzi in Mafia 3 potete leggere comunque l'articolo già su Evriai.it lo trovate in Bacheca Angelo ci fa il favore di lasciare il link grazie Angelo allora ragazzi in pratica io vi dico che non avevo ancora avuto modo di provarlo non ero alla Gamescom però insomma io ero comunque molto interessato vabbè i capitoli di Mafia i precedenti per me sono stupendi e devo dire che anche io ero un pochino così titubante come il nostro caro amico Sergio su questa nuova ambientazione o meglio l'ambientazione mi piace l'idea di non avere come protagonista un mafioso italiano un po' meno però vabbè alla fine ci sta devo dire che la città è bellissima e funziona però purtroppo continuano a non farci vedere la storia o meglio ci fanno vedere qualche cutscene così che sì ok sono super brutali l'atmosfera è bella però ecco insomma si risparmiano sempre troppo secondo me non riesco a capire quanto è scritto bene quanto è recitato bene soprattutto e secondo me è tipo una cosa fondamentale per Mafia in più ancora qualche insicurezza diciamo sul versante della grafica che devo dire non mi ha convinto non ci hanno detto su che piattaforma era girato appunto il video che abbiamo visto che ricordiamo è una mezz'oretta abbondante però non lo so ecco credevo mi aspettavo meglio insomma è un pochino un pochino slavata le luci non sono proprio all'ultimo grido comunque è un bel titolo questo posso assicurarvelo perché fa la sua porca figura la città è magnifica e penso che sarà stupendo andarci in giro due considerazioni su Mafia anche da parte mia o meglio sullo stand che ha ospitato Mafia bellissimo che è probabilmente lo stand migliore di tutte le tre di quest'anno allora devo dire che secondo me allora intanto se andate su Facebook o su Youtube o anche sulle pagine di Averei.it vedrete un video in cui io vi porto in giro proprio per la South Hall quindi potete vedere lo stand che ha ospitato Mafia e anche quello accanto di Capcom che non era male c'era la casa di Resident Evil poi l'auletta di Tribunale di Ace Attorney e il dirigibile di Monster Hunter secondo me quei due sono... se la giocano anche se poi Mafia c'aveva l'orchestra ragazzi c'aveva una blues band Mafia dentro che erano bravissime suonavano ogni tipo mezz'ora venticinque minuti ma c'aveva la Fortune Teller voi l'avete provata? no ma è bellissima poi non c'era io ti consiglio di andare a vedere la Fortune Teller la luna nera ah ok ho capito ah sì ok ok dunque dunque la seconda cosa sullo stand di 2K che è una petizione che farò partire questa mattina è per gli alcolici non distribuiti prima delle 4 di pomeriggio invece dovrebbero iniziare fin dalle 11 e invece iniziare subito io arrivo alle 10 lì cosa faccio fino alle 4 di pomeriggio? allora ragazzi dunque adesso poi ripasso il microfono a Todd per farvi raccontare come era Horizon era giocabile prima volevo però farvi raccontare da Tommy com'era questo Batman VR ma anche rispondere alla domanda di Unlucky Fox che chiede un po' di domande su God of War secondo voi uscirà nel 2017 sarà presentato alla Games Week ci farete un videogameplay su God of War e secondo voi i mostri sono fatti meglio in God of War o in Final Fantasy XV? partiamo dal fondo e risaliamo dalla domanda un po' improbabile su confronto intanto il confronto è abbastanza difficile da fare ma a livello di dettaglio per quello che si è visto God of War ha molte marce in più ovviamente ma anche per la struttura di gioco esatto un videogameplay non da qua perché l'unica non c'è in fiera oddio io ho un appuntamento ancora TBA di Sony potrebbe essere quello ma mi sa che c'è invece c'è sul bus lì dentro non va da giocare? eh questo non te lo so non penso proprio però comunque c'è la stanzetta privata te lo dico io non c'è da giocare l'uscita del 2017 autunno 2017 è probabile molto meno probabile invece è Days Gone che ho visto che è abbastanza arretrato anche a livello di concept e quindi stiamo all'occhio perché nel 2017 secondo me è un target l'ho visto abbastanza già a un buon livello di sviluppo secondo me sì ci chiedono in tanti Batman VR ok allora prima di tutto Warner perché è da Facebook che stiamo seguendo ragazzi quindi se volete farci anche qualche domanda ciao a tutti ci chiedono se allora Mordor uscirà poi è stato presentato no il secondo gioco announced di Warner Bros era appunto Batman Arkham VR allora l'abbiamo provato con il visore della realtà virtuale di Sony ovviamente come è stato presentato in conferenza la prima buona notizia è che non ho sofferto la sickness io che regolarmente con Oculus e Vive qualche problemino l'ho avuto e poi Morpheus in teoria anzi PlayStation VR era uno dei candidati a essere insomma più problematico con Morpheus e questa demo ricordiamo sempre di abbinare la sickness al gioco che si sta provando e non solo alla periferica che si utilizza non l'ho sentita buona la demo purtroppo non era niente di spettacolare era una tech demo Batman questa volta torna ma non con i combattimenti a cui siamo abituati in Arkham il gioco è basato solo sull'esplorazione delle location e sulla risoluzione di enigmi quindi c'è quella parte da detective di Batman che c'era anche che c'è anche nei giochi ovviamente c'era anche nei giochi soprattutto nel primo anche un po' in Arkham Origin c'era anche se non era sviluppata vi racconto la demo brevemente si inizia nella casa di Wayne quindi Alfred ci passa le chiavi del pianoforte suoniamo il pianoforte con i move ricordiamo sempre che si usano due move in questo caso per simulare le mani di Batman si suona il pianoforte si apre l'ascensore della casa che ci porta giù nella Batcaverna quello è l'unico momento un po' di sickness perché l'ascensore scende lentamente il corpo non rileva un movimento fisico non sente la gravità e quindi si è un po' straniato però Warner da quel punto di vista ha lavorato bene gli sviluppatori hanno lavorato bene perché hanno dato tanti input al giocatore quindi ci sono i pipistrelli che passano le cascate sullo sfondo da osservare insomma ti distraggono in quel momento e hanno ridotto di molto la velocità dell'ascensore durante lo sviluppo perché si erano accorti che quella cosa lì non funzionava bene il problema di questo gioco sostanzialmente è che Batman è sempre immobile tu puoi muovere la testa puoi interagire con gli oggetti che hai a portata di mano e che vedi e ti sposti nella location teletrasportandoti quindi tu guardi un punto c'è l'indicatore c'è l'indicatore del move proprio schiacci i pulsati sul move e Batman si trasla in un'altra posizione ok quindi per questo sicuramente la sickness è proprio è a zero serve unicamente appunto per vedere la zona da un altro punto di vista scoprire indizi nuovi c'è poi ovviamente la possibilità con la pistola forense di ispezionare gli elementi quindi di vedere le impronte digitali di riavvolgere la scena rivedere quello che è successo esattamente come in Batman ragazzi quindi ricostruendo la scena ok con il computer comunque quindi è un'esperienza più condensata secondo me è una grossa tech demo in realtà sarà interessante scoprire la storyline di questo titolo magari quella è la cosa interessante coinvolge l'esplorazione delle location però il gioco non è nulla secondo me nei primi mesi forse anni di vita di Project VR ci dovremmo aspettare delle tante esperienze così è un po' la mia paura cioè spin off molto condensati molto limitati esatto infatti torno a ripetere secondo me la durata fra l'altro quanto durano poi effettivamente certo e il prezzo cioè il rapporto tra il durato e il prezzo più che altro e la varietà di cose da fare perché voglio dire anche se durasse mettiamo otto ore ok diciamo se durasse otto ore già saremmo no no ok durasse otto ore ma fai sempre le stesse cose però è molto limitato non puoi capito Batman due palle così no otto ore col motion sickness ragazzi a voi a te si multiplica era per dire ovviamente nel senso una longevità troppo estesa potrebbe essere controproducente per un gioco del genere vedremo vedremo un po' allora volevo rispondere prima di passare il microfono a Todd che vi racconta di Horizon ha un paio di domande su Microsoft Gabba fa una domanda sulla nuova piattaforma unificata Windows 10 devo capire cosa significa questo per le terze parti per loro esisterà ancora la differenza Xbox One Windows 10 oppure visto che ora si parla di esclusive Windows 10 e compatibilità Windows 10 anche tutto ciò che è sviluppato le terze parti o lo sarà nel futuro sarà compatibile con tutto l'ecosistema allora Microsoft non ha non ne ha parlato in maniera approfondita nell'unico titolo di terze parti che si è visto sulla sfruttare la doppia compatibilità è Dead Rising che arriverà su Windows 10 e Xbox One per quello che secondo me per le terze parti esisterà ancora la differenza Microsoft anche nel corso degli appuntamenti e conferenze un po' più orientate verso il settore produttivo come può essere la GDC ha confermato che ci saranno dei tool di sviluppo che renderanno il passaggio da Windows 10 da Xbox a Windows 10 molto molto indolore però ecco non è automatico che per una third party sia più comodo arrivare su entrambe le piattaforme soprattutto per una terza parte sarà impossibile affidarsi solo ed esclusivamente allo store interno di Windows 10 non uscire su Steam è un suicidio commerciale quindi sicuramente per le terze parti se anche i due titoli se anche i titoli dovessero essere disponibili per entrambe le piattaforme è molto difficile che ci sia cross buy e cross save per le terze parti aspettatevi un supporto tradizionale quindi se vorranno uscire solo su console usciranno solo su console la cosa della piattaforma condivisa sarà portata avanti soprattutto dai team interni Microsoft e così del resto tutti i titoli presentati da Ricora Gears a Forza Horizon arrivano dai Microsoft Game Studios ci chiedevano anche che cosa ne pensiamo con Scorpio della strategia che Microsoft vuole intraprendere con Scorpio ci chiedeva Snow We Fuck lo vedete in maniera positiva o negativa io dico la mia poi magari se volete fare un commento voi l'ho già detto in un altro paio di occasioni secondo me il passaggio da un modello produttivo che va a balzi cioè che passa di generazione in generazione ad un modello produttivo più fluido è un guadagno per l'industria sicuramente perché gli hardware manufatture non potevano più permettersi una situazione in cui dopo aver venduto 80 milioni di console come PlayStation 3 e Xbox 360 la base installata diventava zero questo costituiva peraltro un problema ci siamo lamentati in tanti che il mercato alle nuove console faticano a ingrenare certo che faticano a ingrenare perché i team di sviluppo devono andare a investire in produzioni che poi vendono a 10 milioni di persone 20 milioni di persone dall'altra parte però ce ne avevano 80 e 80 significa più vendite cioè più base installata significa più vendite quindi un supporto fluido che non interrompa la base installata è una cosa buona per l'industria a livello produttivo per noi c'è di buono la retrocompatibilità che diventa non ci sono più problemi e la possibilità quindi anche per le console di creare un parco software che sia solido e sostanzioso come quello di Steam il gap cioè la differenza fra avere un parco software che va dal primo Tomb Raider all'ultimo The Witcher 3 e dall'altra parte invece avere un parco software che copre un arco di 5-6 anni era abissale e Sony e Microsoft si muoveranno per evitare questo che ormai è avvertito come un problema quindi per me è una cosa positiva c'è solo da farci un po' l'abitudine ok no io stavo pensando invece c'era una domanda interessante sui prezzi dei giochi della VR eh ok perché Rix è dato a 60 euro che è fuori di testa io stavo pensando anche a Batman al gioco che ho provato ieri a quanto può essere venduto cioè io un titolo così a prezzo pieno non lo comprerei mai lo comprerei a prezzo super budget ma una cosa di 20 euro guarda secondo me andando alti si può arrivare a 39,90 secondo me è sempre molto alto ma c'è questo 39 che psicologicamente ma alto ma alto proprio cioè cercare di vendere quelle demo a prezzo pieno è una follia e tra l'altro hai già acquistato una periferica che non costa poco perché costa quasi più della console ormai no no costa più della console costa 3,99 dollari sarà 3,99 euro e la stai prendendo senza telecamera che serve ragazzi perché senza head tracking non fate nulla e senza move che non sono obbligatori ma per tante delle esperienze che si sono viste ma credo Batman è indispensabile Batman è indispensabile Until Dawn Rush of Blood insomma si puoi giocare è come giocare a un on-rail shooter con il pad non si può fare poi ricordiamo che anche Farpoint che fra l'altro lo vedrò più tardi poi ve lo racconto ha bisogno anche di altre periferiche c'è il fantastico fucile non so se l'hai visto no vabbè ma quella è una però quello col move lo puoi simulare lo puoi bypassare lo puoi bypassare però però ce ne sono anche altre insomma di periferiche che se vuoi la full experience è che devi fare allora Big Weight chiede come è Nihon come modificano il gioco i cambiamenti apportati ma rendono la progressione molto molto più morbida perché è stato rimosso integralmente il sistema di danneggiamento di usura delle armi e delle armature quindi c'è sempre il sistema di loot che ti permette di trovare armature più potenti la progressione passa sempre attraverso questa doppia cosa questa tripla cosa da una parte appunto l'equipaggiamento dall'altra l'aumento delle statistiche in ultimo lo sblocco di abilità attraverso uno skill tree abbastanza ramificato dedicato a le abilità magiche l'abilità di ninja e le tre abilità su asce e martelli lance e katane poi per quella devo dire che la demo che ho provato la difficoltà era un po' non smussata perché era sempre percepibile però non c'è stato quell'impatto in cui all'inizio sono morto per un'ora senza capire che cosa dovevo fare non so però se è merito della demo se è merito del fatto che avessi già giocato insomma che avessi già un po' metabolizzato appunto l'alpha però l'ho trovato sempre in gran forma quello che meno mi convince è la divisione in singoli livelli cioè non c'è un mondo di gioco ma la mappa ti permette di andare a fare quella missione quell'altra nelle singole missioni ci saranno due tre aree anche interconnesse con delle scorciatoie interessanti però la mancanza di un overworld è in un titolo del genere riduce un po' il fascino dal punto di vista grafico perché ho visto che ce lo chiedevano uguale a uguale quindi sostanzialmente sì ragazzi molto tragico ma allora un paio di livelli cioè un livello nuovo era un po' più bello perché c'erano delle distese di erba un po' arrossata da alcuni colori autunnali in cui uscivano questi yokai e lì insomma è un po' più carino però poi siamo tornati nelle miniere e insomma la modellazione poligonale non è che sia eccezionale ma io parlavo anche proprio di frame rate occhio no no frame rate abbastanza sereno migliorato ti ricordi c'erano dei frame drop belli pesanti bene ottimizzato Toda allora ora ti passo il microfono e mi racconti com'è Horizon che abbiamo giocato e ci sono delle sorprese allora prima di Horizon ragazzi vi interrompo devi avere un buon motivo per interrompere Horizon allora c'è un grossissimo interesse per Spider-Man vero l'ho notato anch'io l'ho notato anch'io PS4 in giro ma in generale nelle chat ci chiedono sempre di Spider-Man PS4 che confermiamo non era giocabile e non era giocabile e allora aspettate in fiera no ci abbiamo questo appuntamento avevamo due appuntamenti di Sony per dei TBA uno era Days Gone che sono andato a vedere ho parlato con gli sviluppatori l'altro dobbiamo scoprire potrebbe essere secondo me sarà God of War ok però anche perché Spider-Man l'hanno fatto vedere 10 secondi con un trailer quindi io non credo è God of War allora ok allora ok no allora Spider-Man ragazzi non c'è quindi non possiamo dirvi nulla sul gameplay capisco l'interesse perché il capitolo per PlayStation 2 è stato storico diciamo e ora rimane da Imsoniac che con i giochi può far bene può far bene posso dire secondo me è in mano da Imsoniac con un po' di feed di Sucker Punch un po' di aiutini sì ok ottimo quindi potremmo aspettarci davvero qualcosa di grosso su questo Spider-Man Francesco chiede Passerotto tu che tu che hai provato il nuovo livello di Nihot ti hanno fatto vedere qualcosa di Berserk no la presenza di no sono andato anch'io a vedere Tecmo Koei ragazzi Berserk c'era solo uno schermo con questo teaser di Berserk non so scherzo arriveremo presto coming soon insomma va bene allora allora è confermato Berserk è confermato Berserk non si sa nulla assolutamente del gioco c'è qualcuno che chiedeva ma solo io trovo lo Windows Store di Windows 10 fatto male no è terribile è terribile lo abbiamo scritto anche è terrorismo informatico nell'articolo dedicato a Quantum Break in versione PC perché secondo me personalmente se esce solo su quella piattaforma e quella piattaforma di distribuzione è anti-intuitiva non navigabile problematica nelle fasi di download quello è un rotta proprio diventa un problema del gioco cioè se tu vuoi avere l'esclusiva di quel gioco su quella piattaforma devi darmi una piattaforma che sia fruibile altrimenti parlate di Horizon ci chiedono dalla chat abbiamo rubato il microfono a Todd allora ragazzi andiamo andiamo per ordine allora Horizon la prima cosa da chiarire è questa non si tratta di un action RPG così è veramente tanto RPG cioè più simile a The Witcher è esatto e sapete perché questa cosa non è passata perché c'è non so se l'avete notato anche voi fra l'altro vorrei anche chiedervi la vostra opinione ma c'è sempre questa tendenza soprattutto nelle conferenze Sony di rimuovere completamente tutta l'interfaccia ma non sono Sony lo fanno quasi tutti ok però per rendere un po' più immersivo esatto cinematico ma fa capire molto meno del videogioco ma molto molto meno anche te mi ricordo insomma che eri curioso volevi sapere di God of War allora stessa cosa per Horizon ma su Horizon è ancora peggio perché non si capisce che in realtà è pieno di numeri a schermo ragazzi ci sono le statistiche ma sono fatte statistiche serie nel senso quindi ogni volta che colpiremo un nemico salta fuori schizza fuori il numeretto del danno insomma con la quantità di danno che abbiamo con la tipologia anche il colore cioè insomma è molto in base all'elemento dell'arma è molto molto complesso io ci sono rimasto così fighissimo poi in più ovvio perché allora la grafica dell'immagine comunque mi piaceva molto sì così senza troppe cose a schermo no 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 la cosa bella la cosa bella è che tu poi devi sfiorare semplicemente il track no 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 non c'è di norma tu sfiori il track e appare capito e non è fatta perfetto assolutamente insomma è pensata bene è fatta bene è carina anche l'interfaccia mi piace il menu ti ricordi che l'abbiamo visto ah fra parentesi ragazzi vi ricordate che nel video hanno fatto vedere anche la mappa ecco durante la prova hanno praticamente aperto ancora di più la mappa cioè hanno zoomato all'infuori ancora di più e si è visto ragazzi che è proprio bella bella tosta ci chiedono Horizon avrà anche loot allora essendo un GDR allora per quanto riguarda il loot non posso garantirvelo cioè ci sono i pezzi ovviamente ci sono i pezzi cioè lì probabilmente più che loot è un i componenti raccolta delle componenti per il crafting anche perché ricordate che raccogliamo i pezzi dai mostri che uccidiamo in base alle parti che colpiamo ma sono pezzi non penso di armature dell'arco no però le armature si possono comprare io ne ho comprato cioè sono i negozi ho comprato un'armatura e c'è proprio le statistiche ragazzi ma ti cambia anche addosso certo ti cambia anche addosso ed è diversa ce n'erano tipo due o tre troppe no 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 ce n'erano proprio due o tre una per esempio ti dà più non so caratteristiche di tipo stealth un'altra ti dà più corazza ma raga proprio inaspettante posso dire che mi sto eccitando si può dire? magari mi metto un attimino più in là ragazzo vabbè comunque la telecamera non riprende fighissimo poi ragazzi ho avuto modo di chiedere anche agli sviluppatori che poi ci siamo chiusi eravamo tutti italiani hai chiuso gli sviluppatori uno sgambuzzino si l'abbiamo chiusi lì e abbiamo no fermi ragazzi adesso ci spiegate come funziona sta cosa numero uno numero uno cos'è sta storia dei dialoghi a scelta multipla quanto incideranno sulla storia loro mi hanno risposto che non dobbiamo aspettarci tradotto ve lo traduco io non dobbiamo aspettarci The Witcher 3 però comunque avranno il loro peso nel senso che alcuni personaggi non si sa potranno anche morire a quanto pare in base dalle risposte esatto quindi cambierà effettivamente la storia altrimenti di norma dico io avremo sempre la possibilità di approfondire come al solito le informazioni che questo può voler dire anche che se davanti a un personaggio hai due scelte uno è ucciderlo o non ucciderlo could be esatto potrebbe però non ci li ho visti convinti comunque li ho visti convinti poi che dire il sistema delle trappole fighissimo funziona bene fra l'altro una cosa interessante che c'era quando poi insomma mi hanno lasciato la demo ci hanno fatto vedere un'altra volta la demo quella là ma molto più estesa più lunga quindi abbiamo distrutto un sacco di roba in giro abbiamo visto il villaggio che non si vede perché te cominci proprio da quando esci dal villaggio quindi ho visto il villaggio abbiamo chiacchierato tipo con il capo tribù e poi insomma ci hanno lasciato nella demo siamo andati in giro ho visto un attimo proprio come funziona il feeling del gameplay e vi dico che è anche abbastanza agile cioè quando salta allora salta ma proprio è super agile praticamente il gameplay ma si vede che è quello di un action e per questo tutti pensavamo che fosse un action free roaming anzi io pensavo più che free roaming con gli ultimi trailer pensavo addirittura fosse story driven ok molto più in realtà è molto molto esatto sappi che comunque lo sarà story driven cioè l'hanno l'hanno assicurato sì sì no quello certamente però come sono i comandi reattivi sì appunto sì sono reattivi sono cioè sono anche belli poi fra l'altro quindi abbiamo due tipi di attacco come lì cioè pesante e leggero poi abbiamo lo strafe la schivata insomma poi vabbè il salto ovviamente e poi possiamo aprire la ruota quella che si è vista le armi allora le tecnologie di bombe con il danno elementale con il danno elementale ok ragazzi ci chiedono se poi sarà doppiato ma penso proprio di sì cioè sony doppia tutto all'ultima le major production così assolutamente allora se non è doppiato sicuramente localizzato sui sony ma ragazzi sony sta doppiando cioè no no poi è un triple A un triple A aspettatevelo tutto in italiano per sony non è una cosa da mettere in discussione dunque 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 voglio fare una chiarificazione su horizon che ci chiedevano da facebook quando si tocca il pad il trackpad si possono rimuovere o inserire i danni a schermo quelli causati dalle armi potete anche insomma toglierli senza allora the italian three bar player volevo farvi complimenti per come state riuscendo a coprire tutti gli eventi di questo tre grazie ci stiamo facendo un discreto mazzo e loro lo sanno perché io divento burbero come dice Dario inoltre ne approfitto per chiedere a fra che versione di Tekken 7 ha provato se la vaniglia o la fated retribution come scritto nel pezzo ho provato la fated retribution però l'ho provata su pc ragazzi e questo mi lascia un po' mi lascia un po' c'era il pad della 360 della one però però mi hanno detto subito guarda gira su pc te lo dico per chiarezza tecnicamente molto bella ma anche su pc in qualche momento c'erano non tanto dei frame drop ma proprio tipo stuttering cioè si fermava e poi ripartiva subito veloce quindi immagino che su console non ce lo fanno ancora vedere immagino che il fatto che sia stato rimandato al 2017 sia legato soprattutto a la necessità di ottimizzarlo sulle console e sono un po' preoccupato vi dico la verità si scenderà con promessi tecnici sicuramente su pc fa sempre la sua bella figura perché oltre alla modellazione poligonale dei personaggi le arene non sono eccezionali i personaggi invece si ci sono tanti effetti speciali soprattutto i giochi di regia i rallenti il dinamismo delle scene è esattamente quello che serve a Tekken che secondo me questo rappresenta il capitolo un po' della rinascita della saga non che gli ultimi non mi siano piaciuti ma qui insomma il sistema di combattimento i moveset il roster sono proprio hanno tolto tutto il superfluo si sono concentrati su quello che conta sul nucleo ludico hanno fatto una cosa molto bilanciata fra l'altro ho provato anche Nina Williams moveset molto molto classico dopo i palmate attacchi in salto attacchi molto alternanza alto basso nelle combo anche se i ritmi non sono velocissimi beh come guarda negli ultimi Tekken più o meno il juggling è incentivato per tutti i personaggi in Tekken 7 la dinamica di bouncing è stata un po' rivista quindi le combo in area non si tengono dopo il rimbalzo ma con l'animazione di caduta si chiama tile spin questa cosa quindi mentre l'avversario cade si può prendere cioè c'è il primo rimbalzo ma poi va tenuto in area con un timing un po' diverso fra l'altro in area i danni scalano molto rapidamente quindi i colpi non fanno così male e non è che si può chiudere come succedeva prima una partita con due combo aeree e questo è un gran bene ho provato anche Akuma ok ho provato anche Akuma che stranamente si porta dietro anche la barra delle ex allora il moveset sì sì è incredibile il moveset è proprio uguale identico cioè il Gosho Ryuken i calci girati la barra delle ex ce ne sono oltre alla Rage Art che è quella che hanno tutti i personaggi di Tekken che si può fare quando la barra della vita scende sotto il 75% lui ha anche la mossa speciale può riempire le due tacche della barra delle ex una tacca può usarla per rendere più potente diciamo con l'aura gialla una mossa classica oppure può fare la mossa speciale il moveset è molto particolare perché sono molto particolari i ritmi sembra veramente che abbiano preso i ritmi d'attacco che sono un po' scattosi quando colpisci l'immagine si ferma quel frame che a me piace moltissimo in Tekken non c'è l'hanno portato da Street Fighter mi è piaciuto molto come l'hanno adattato bisognerà vedere se è bilanciato dici che è un rimasuglio del vecchio Tekken Cross Street Fighter probabilmente ci avevano già lavorato talmente tanto ragazzi non lo buttiamo via questo personaggio ragazzi rimanendo in tema di Picchiaduro io passerei a Injustice 2 visto che me lo chiedevano aspetta però facciamo rispondere rapidamente alle domande a cui possiamo tipo avete provato Sniper Elite 4 lo proviamo l'ultimo giorno niente da parte di Codemaster Codemaster è qui solo con Formula 1 e lo proviamo giovedì we happy few sì e dopo ve ne parla Todd tanto abbiamo ancora una mezz'oretta che cos'altro a cui posso rispondere rapidamente abbiamo visto provato Pyre no e niente ho esaurito le domande rapide poi parliamo anche di Final Fantasy allora parliamo di Injustice 2 avevano fatto vedere le scorse settimane questi trailer con i supereroi che guadagnano un'armatura tutti avevano pensato fosse una sorta di special ma tutti tutti cioè anche il Todd aveva pensato questo una special move che usasse una parte della barra eccetera e invece no perché perché Injustice 2 signori avrà un sistema di loot casuale e qui adesso c'è la Civil War e qui c'è la Civil War allora 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 adesso io dico una cosa dico una cosa intanto vanno a spiegare la vede un po' vabbè scusa hai ragione vai intanto spieghiamo come funziona allora alla fine di ogni partita match battaglia online offline con gli amici single player o come volete c'è la possibilità randomica di ottenere uno o più equipaggiamenti sia che abbiate vinto o che abbiate perso la partita quindi si possono droppare un elmo la corazza i bracciali le gambe gli stivali eccetera un'arma ogni oggetto che vincete dopo gli scontri ha delle statistiche personalizzate che possono a sua volta aumentare il danno che causate la resistenza ad alcuni colpi oppure fornire bonus passivi come un danno aumentato con le combo aeree per esempio o addirittura è possibile droppare e questo non te l'avevo detto ieri fra le abilità skill aggiuntive addirittura quindi Batman può ma da mettere cioè sono skill passive no 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 da richiamare durante il combattimento quindi Batman può guadagnare dei Batarang che gli girano intorno da lanciare come se fosse un proiettile che altri Batman non hanno ad esempio e questa cosa ragazzi è molto molto strana anche perché anche perché i personaggi e l'account del giocatore salgono di livello salgono di livello quindi una volta che siete saliti di livello gli oggetti che avete droppato a livello 1 perdono consistenza perdono efficacia e dovete droppare oggetti di livello 2 il drop vi ricordo che è randomico e casuale per tutti i personaggi del roster adesso ne hanno annunciati 6 sono 28 in totale ma questo significa che bisognerà giocare veramente tanto per riuscire a farsi la build come volete non c'è possibilità al momento né di vendere né di comprare né di ricraftare gli oggetti quindi sono solo legati alla fortuna arriverà però dai in chat arriva già i primi commenti porcata posso dire la mia? posso dire la mia? non è una porcata idea geniale secondo me sì perché è ovvio che un picchiaduro debba dedicarsi anche e soprattutto alla scena competitiva certo ok un picchiaduro esiste sulla lunga distanza se se viene portato a levo se ci sono i tornei se la gente si diverte è ovvio che questo elemento non può rientrare nelle partite competitive e io sono sicuro sostanzialmente ci sarà un bottone off sugli equipaggiamenti e si giocano con persone oppure semplicemente insomma nelle ci sono delle modalità tipo ranked match classiche tuttavia un picchiaduro oggi ha anche bisogno di presentarsi a un pubblico più vasto possibile pubblico che chiamiamo non dei casual gamer ma la massa che gioca i giocatori che non hanno interesse a diventare pro player per tanti anni i picchiaduro hanno faticato a riprendere gli investimenti fatti proprio perché il pubblico li avvertiva come troppo fini a se stessi esatto troppo fini a se stessi non c'era un senso di qualcosa che ti mantenesse di continuità ultimamente hanno provato a mettere Mortal Kombat aveva aggiunto una campagna esatto grande passo avanti per quanto riguarda e voleva fare quello cioè voleva dare a chi ai non pro player un numero di contenuti adeguato a supportare insomma a tenerli incollati allo schermo per tanto tempo questo il sistema di loot per questo tipo di giocatori può essere secondo me interessante può essere uno stimolo a tornare a giocare alla fine anche quando hai fatto tutte le prove magari riesce a potenziarti oppure troppo un'abilità che ti va di provare quindi secondo me per quel tipo di giocatori cioè venderà un botto perché quel tipo di giocatori li vogliono anche sostanza spendono 60 70 80 75 euro per un gioco tripla A e non lo vogliono abbandonare dopo aver esaurito tutti cioè provato i 16 personaggi del roster quindi secondo me è una bella idea ammesso che questo è importante le due dimensioni le due sfere quella pura competitiva bilanciata e quella invece un po' più come possiamo definirla un po' più leggera un po' meno rigorosa siano separate se Warner riuscirà a tenere separate queste due facce del picchiaduro farà secondo me farà un bel botto no ragazzi non sarà assolutamente free to play sarà venduto a prezzo pieno in justice senza problemi una cosa che non vi ho detto è che ogni oggetto che droppate ha un'estetica propria quindi ogni Batman che incontrerete online avrà il proprio aspetto ok allora questo secondo me è fighissimo è un'acqua ma differente cioè vedrete chi è noob anche dell'equipaggiamento come in qualsiasi gioco nel senso ci saranno quelli con i pataloncini corti e la maglietta e il bastoncino questo un po' meno magari però con quelli che hanno giocato che ne so cento ore che avranno il tridente super figo l'elmo con le squame la tutina vabbè io ripeto non sono ancora convinto va bene l'idea è figa capisco perfettamente quello che dici te cioè tu dici vabbè se la gente te lo percepisce come un gioco troppo breve fino a se stesso te ci ficchi in mezzo in loot alla Diablo 3 e stai a posto e fai pure le season con questo e vai tranquillo che non si staccano più con loot va bene però io onestamente voglio vedere prima come sarà la modalità per esempio quella non classificata perché comunque io capisco che puoi avere un sacco di non lo so di payback dall'avere un equipaggiamento diverso però i livelli le abilità cioè che significa che se voglio giocarmi una partita paritaria devo andare per forza in classificata secondo me nel multiplayer livelleranno i personaggi e gli equipaggiamenti che hai cioè se sei livello 15 e incontri un livello 30 tutte e due andate che ne so o a livello 30 ma se quello ha più abilità di te cioè se quello c'ha il batarang che arriva da beh le abilità sono più facili da bilanciare le statistiche magari fa pochissimo non è neanche scombabile quello bisogna vedere il bilanciamento scombabile non è scombabile non è magari scombabile oh l'hai detto sì allora parlate di Zelda ci chiede Vibi Matteo chi ha visto Zelda parliamo di Zelda io gli ho dato un'occhiata approfondita hai visto che ho iniziato a dire Zelda come lo dici tu così non ti faccio sentire un bambino speciale però l'ha giocato approfonditamente il nostro Andrea lui dice Zelda ah ok si ma tolta una cinghiale lascialo stare poi si distrae si sta si sta anche arrabbiando guarda inizia a mordersi l'acqua poi inizia Zelda è bellissimo Zelda è bellissimo dunque qua su alle 3 è disponibile ovviamente in versione Wii U perché Nintendo non l'ha portato in versione NX noi sospettiamo che sarà quest'ultima che riuscirà a tirare fuori il meglio dalla produzione anche dal punto di vista tecnico nella versione Wii U nonostante la draw distance sia molto ampia c'è ancora qualche elemento che non è proprio raffinatissimo ma come posso dire la componente tecnica è nuclearizzata da questo aspetto questo stile che è veramente meraviglioso cioè le ambientazioni diciamo sono open world quindi sono vastissime ma c'è questa sorta di cel shading morbido con i colori che ti riempie proprio lo sguardo è veramente meraviglioso fra l'altro la varietà di ambientazioni che si è vista non solo qui sullo show floor ma soprattutto sul trailer lascia ci sono tutte le c'è tutta l'iconografia classica della saga ma inserita in questo mondo che è coerente coeso ed è veramente meraviglioso e ragazzi cambiamento di gameplay integrale perché appunto la svolta open world poi entra anche nel merito di alcune delle meccaniche di gioco non ci sono ad esempio più le pozioni cioè i cuoricini ma c'è la possibilità di raccogliere degli ingredienti con cui poi realizzare dei manicaretti che ripristinano la vita e cambia anche il combattimento perché è possibile addirittura ci sono delle fasi stealth con cui si possono ci si può avvicinare ai nemici rubargli le armi poi controllare quali sono le loro reazioni quando si svegliano di improvviso e non si trovano più insomma l'arma nella fondina e la varietà di armi è aumentata perché si possono prendere bastoni spade lance e tutte le armi hanno un sistema di usura quindi il gioco incentiva appunto il cambiamento continuo all'interno di questo smisurato overworld che si può anche attraversare cavalcando insomma varie creature pensiamo per il momento si sono visti solo cavalli no 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 ah ok qua nella damage se hai l'amiibo ok ok no però nel trailer si è visto che si può cavalcare insomma in questo overworld ci saranno anche i dungeon con uno sviluppo più classico legato probabilmente all'utilizzo di vari gadget però non c'erano da giocare qui sullo show floor e quindi dovremo un po' capire poi quale sarà la qualità del puzzle solving ma devo dire la verità è l'aspetto che mi lascia più sereno perché per quanto nel corso degli anni la saga di Zelda abbia avuto i suoi alti e bassi secondo me la qualità dei dungeon è sempre rimasta veramente veramente al top quindi lo Zelda della rivoluzione lo Zelda della rinascita quindi secondo me Nintendo in tanti dicono che abbia vinto le tre con un solo prodotto in effetti l'impatto di questo titolo insomma del trailer di presentazione poi del gameplay che è stato mostrato durante l'evento in streaming è veramente eccezionale ma no è una ma no vabbè Nintendo basta con no 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 a Nintendo no basta perdonare a Nintendo queste cose nel senso ma io non li ho perdono è semplicemente no infatti io sono d'accordo io sono d'accordo cioè no perché l'ho letto stavo discutendo di questa cosa nel senso l'ho letto più volte in giro poi quello lì no no io sono d'accordo la presenza di Nintendo alle tre no vabbè ma che c'entra certo ci dicono da Nintendo si esce col sorriso è vero anche se c'è un solo Zelda no Nintendo sicuramente non ha vinto alle tre perché non ha deciso cioè ha deciso di non supportare pienamente questo evento farà esatto farà il suo insomma il suo si troverà un suo spazio per comunicare poi Nintendo NX che appunto torniamo a dire sarà probabilmente la piattaforma su cui il nuovo Zelda Breath of the Wild questo è il titolo ufficiale trarrà il meglio anche dal punto di vista te però ecco se ti dicessero guarda sul tavolino ti trovi tutti i migliori titoli delle tre ne puoi prendere solo uno ma prendo Ryzen prendo Godofor ok però però Fossetti io voglio sapere quello che prenderebbe Fossetti no via non lo so no su via ma uno non vince con un titolo no non ho detto questo non ho detto questo cioè per te Zelda Zelda è il migliore è il miglior gioco presente in fiera quest'anno io? no che ancora non l'ho visto l'ho provato non posso dire ok allora For Honor andiamo a provarlo stamattina ragazzi insieme a Stips 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 sì non è male e anche a no aspetta la domanda però era da utente non ho capito se è la domanda da un utente internazionale oppure se è Angelo che cazzeggia con l'inglese no 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 c'è l'utente che fossimo francesi tra le altre cose ma oui je suis baguette je suis baguette cheat questa la mettiamo su tutti i titoli Ubisoft je suis baguette every eye.it certo ce lo vedo no immagino ci stesse riproponendo ancora una domanda di un utente internazionale che noi ringraziamo a sto punto ma è la cosa bella che non può ah ok Varlak what do you think about For Honor and Bannerlord che cos'è Bannerlord? Banner saga magari quello nuovo? no che cos'è Bannerlord? ha trovato ah Mount & Blade Bannerlord so what do we think about For Honor we didn't try the game yet we are going to try out the game today so if you want to come back tomorrow we'll try to to tell you what we think vedremo oggi anche Kingdom Come Deliverance caro Federico Leggeri o Leggeri o Leggeri Leggeri Federico Leggeri Leggeri quindi oggi giornata medievale andante si si voi io vado da Devolver ciao e ti mangi anche salsiccia e friarelli esatto allora abbiamo un altro quarto d'ora Final Fantasy 15 ragazzi demo di Final Fantasy 15 ecco posso dire posso dire la verità Final Fantasy 15 mi aveva un po' stuzzicato con la episodda sky la demo che era presente in Final Fantasy Type 0 anche lì c'era qualche cosa da rimettere a posto e però si diceva vabbè tanto uscirà fra un anno un anno e passa stiamo tranquilli ora stiamo un po' meno tranquilli perché Final Fantasy 15 si è presentato sul palco della conference Microsoft con una demo imbarazzante imbarazzante spazzata via 20 minuti dopo da quello che ha fatto vedere Scalebound sia per respiro dei combattimenti per spettacolarità per potenzialità del sistema di combattimento anche per colpa di chi aveva il pad in mano molto probabilmente sì va bene lo abbiamo qui sullo show floor c'è una demo ma anche quella ragazzi non non ha il nerbo che serve ad una produzione così a me Final Fantasy 15 mette sempre più in difficoltà la Platinum demo l'ho trovata un'operazione commerciale comunicativa imbarazzante imbarazzante poi lo so che a qualcuno è piaciuta che dicono serve solo per mostrare non è vero serve secondo me cioè serve è la faccia essendo una demo gratuita scaricabile da qui fino al 30 settembre quando uscirà è per tanti utenti il contatto principale con una produzione che non avrà quell'impostazione non avrà quel sistema di combattimento non avrà quel tono e quelle atmosfere che sono bambinesche giocose non ci saranno Square Enix sta sbagliando molto con le demo questo non significa che il titolo non sia interessante anzi il mondo di gioco sembra fatta molto bene io di Tabata mi fido perché ha sviluppato proprio Final Fantasy Type 0 che è uno a livello narrativo è uno dei migliori Final Fantasy degli ultimi tempi e anche a livello ludico quindi vediamo un po' che cosa succede per il momento però ragazzi le demo sono un mezzo passo falso pure i trailer se permetti i gameplay trailer sono montati sono assemblati in una maniera che non è convincente vabbè adesso passi nei Backstreet Boys va bene se li lasciamo questa vabbè avete i Backstreet Boys tutti i vestiti di nero vi piacciono e vi ritenete però secondo me non sono convincenti questi trailer è vero eppure ancora ci voglio sperare ci voglio sperare lo gioco muto senza audio non li voglio sentire quando chiacchierano quelli là però altre notizie su Dead Stranding il titolo di Kojima presentato ufficialmente sul palco della conferenza Sony è esclusivo per Playstation 4 perché è foraggiato da Sony Interactive Entertainment no nessuno nessuna notizia per il momento si sapeva che Kojima l'ha solo presentato non c'è ancora nulla di concreto Horror Paradise Horror Paradise attenzione perché fa una domanda molto interessante Tommy non vede l'ora qualche bell'Indy che vi ha stupito ma ha avuto poca visibilità Necropolis Necropolis ragazzi tutta la vita Necropolis però Indy tra l'altro tra virgolette perché è distribuito da Bandai Namco ho capito però mi sa che è cambiato in corso d'opera sta cosa perché inizialmente si è arrivato da Kickstarter anche lui potrebbe potrebbe non lo so io non lo conoscevo fino a ieri ho visto una schermata Morlue lo conosce da un pezzo ho visto una schermata di gioco e ho detto però sembra interessante questo giochino mi sono buttato nel boot Microsoft a provarlo ed è effettivamente interessante è un mix tra Microsoft era proprio da Microsoft era un mix interessante di generi perché mischia un po' spelunchi visto che dovremmo scendere in questa catacomba fino a trovare l'uscita per salvarci con dungeon generati completamente in maniera randomica casuale quindi la posizione dei nemici gli oggetti le armi che troviamo è tutto casuale e un combattimento alla serie molto vicino alla serie dei souls quindi c'è la possibilità di fare le schivate ci sono nemici molto pericolosi quel combattimento lento e ragionato vi ho postato insieme ad Angelo un link all'articolo che ha scritto Tommy grazie molto bello anche lo stile grafico fighissimo molto minimal ma particolarmente curato non il minimal che adesso impazza cioè che la metà non c'hanno un senso cioè minimal fatto bene c'è una cosa assolutamente interessante ragazzi assolutamente interessante che è la completa assenza di statistiche per le armi cioè ogni nemico ha il suo equipaggiamento quindi c'è chi ha un pugnale una spada una spada uno scudo un bastone da mago eccetera e ogni nemico lascia cadere esattamente quello che gli vedete equipaggiato voi potete raccogliere qualsiasi arma trovate in gioco aprendo i bauli oppure raccogliendola dai nemici o comprandola dagli NPC che ci sono disponibili e ogni arma ha un moveset diverso ha una velocità differente che potete capire però solo utilizzando l'arma non ci sono statistiche non ci sono dettagli sull'arma non c'è nulla è tutto un sistema e questo è fighissimo l'altra cosa molto molto figa è la coppa a quattro giocatori coppa a quattro giocatori in un titolo alla dark souls non lo può lasciar cadere sto cazzo di microfono allora cosa è successo vai vai tranquillo veloci però veloce We Happy Few è solo psychodrama o ha un po' di vena horror no ragazzi è super inquietante sembra sembra veramente Razerhead di Lynch in certi momenti è veramente tosto ed è addirittura delle cose proprio veramente ho detto veloce ok inquietanti ripeto inquietanti sto con quello sto con quello ok allora di record abbiamo parlato un po' ieri ma magari prima della fine si ma ma guarda velocissimo lo posso anche adesso non è un titolo grandissimo che ci ha colpito ci sono delle meccaniche che non funzionano benissimo secondo me è da rivedere a settembre per forza per vedere se se hanno migliorato se era una colpa della demo che hanno portato che faceva vedere perché ogni tanto capita tra l'altro questa cosa che sbaglino completamente la sezione da mostrare del gioco magari portano una demo poco riuscita in quel punto allora avete per caso provato altri titoli in VR stamattina andiamo a provare Farpoint poi proviamo che è quello su traspaziale su Marte tipo si si è quello che l'ho già intravisto ma ancora non mi sbottono voglio essere sicuro poi proviamo Riggs poi abbiamo un appuntamento anche con Ubisoft per provare la Eagle Flight Eagle Flight io lo provo solo se c'è Palmer Laki se posso combattere con Palmer Laki io il gioco dei fagiani lo voglio provare tra l'altro non è anche in co-op o competitivo cioè due contro due competitivo Federico Federico Leggeri a proposito dei Dark Souls i nuovi DLC no From Software non c'era non ha portato proprio nulla avete provato Deus Ex invece zero domanda da Taffo avete provato Deus Ex come vi è sembrato non qua l'abbiamo provato qualche settimana fa si si c'è c'è però è la stessa la stessa demo che ho provato anche perché è la stessa demo che ho provato qualche tempo fa quindi molto molto più rifinito nel gameplay molto migliore secondo me a livello sul fronte del level design e c'è questa nuova modalità bridge che è sostanzialmente un arcade fatta di singole missioni molto molto piccoline con una progressione anche lì un sistema di loot e anche le leaderboard si possono scalare lavorando per smussare i tempi di completamento Dead Rising si era giocabile qui sullo stand ve lo racconteremo ma sostanzialmente ragazzi prendete Dead Rising 3 riportatelo con Frank West a Villamette e avrete Dead Rising 4 anche sul fronte tecnico miglioramenti solo moderati per quello che ho potuto vedere quasi nulli anche io non dovrebbe essere esclusiva ragazzi Dead Rising 4 no secondo me non è esclusiva forse temporale visto che l'hanno presentato anche l'ultimo non lo so non lo so fatemi vedere fatemi vedere l'hanno presentato sul palco Microsoft ma non si sa sapete qualcosa su Need for Speed no Electronic Arts non ce l'ha voluto far vedere non arriva quest'anno non arriva quest'anno non c'è non c'è non c'è non c'è è confermato non c'è alcun Need for Speed in arrivo per questo inverno quindi se ne parla di sicuro nel 2017 cioè il brand non è morto Ale Magra si dice che Rockstar abbia deciso di non annunciare Red Dead durante la conferenza Sony a causa della strage di Orlando vi risulta mi sembra proprio strano mi sembra francamente Red Dead poco realistico con l'ambientazione West Far West cioè ragazzi che devono fare si devono dare bacine Far West è ovvio che si sparano la strage di Orlando poi ha una motivazione insomma di di razzismo gender quindi non c'è tra poco nulla con Red Dead poi We Happy Few sarà esclusiva Xbox no 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 assolutamente pare arriverà anche su Mac ragazzi pensate un po' invece ci dicono che per il momento sì in effetti per il momento Dead Rising 4 ha annunciato PC e Xbox si ha annunciato PC e Xbox ma non è un'esclusiva ragazzi perché avrebbero messo il loghettino come ha fatto con tutte le altre esclusive Only for in realtà paghi e poi non ce lo metti secondo me ragazzi è un'esclusiva temporale gli daranno un mese o forse qualcosa più facile magari fanno come Tom qualcuno ci chiedeva di Let It Die Let It Die non ce lo siamo dimenticati l'abbiamo provato ragazzi Let It Die nuovo titolo di Sudda51 l'ho provato io ho anche scritto il pezzo sì sì particolare dunque non originalissimo perché è un Souls-like proprio è un Souls-like uguale cioè sono gli oggetti cioè si muore spesso e volentieri quindi forse stavolta mi piace no stavolta ti piace sicuramente ci sono si muore spesso e volentieri perché è un titolo molto molto cattivo quindi poi si riparte e bisogna andare a recuperare l'esperienza che il nostro il nostro precedente personaggio ha lasciato cadere sul campo c'è il sistema di cura simile alle fiaschette Estus è però molto particolare il setting è un setting che io ho definito un po' cannibale onnivoro molto postmoderno diciamo così si comincia in questa sorta di Luna Park un po' dismesso un po' horror e poi si entra in fognature sistemi metropolitani insomma abbastanza stravagante come sempre per Sudha 51 così come stravagante è la varietà di nemici c'è gente con armature in ferro maschere da hockey seghe circolari la varietà delle armi è incredibile e mi hai colpito ti ho colpito scusami scusami e praticamente tutte queste ogni singola arma porta con sé un moveset molto molto diverso quindi bisogna interiorizzare un po' i tempi degli attacchi dei fendenti se non si vuole cadere vittima di una difficoltà abbastanza pronunciata anche qui bisogna stare attenti alla stamina però ecco lì ci ha messo il tocco di classe non c'è una barra ma mano a mano che ci sta fatica il cuore del personaggio diventa visibile e poi prima giallo poi rosso quando la barra della stamina finisce un po' come succede in Neo che il personaggio si ferma per un po' si Neo un po' troppo qui invece è un po' meno lui il personaggio si abbassa per testimoniare la fatica il cuore fa una serie di battiti rapidi per riportare la situazione alla normalità e poi si può riprendere il gioco sarà free to play ragazzi quindi non free to play l'investimento mi sembra molto elevato per essere un free to play però vediamo se arriverà un sistema di microtransazioni che ancora non è stato spiegato vediamo un po' va bene allora ragazzi abbiamo fatto un'oretta abbondante e io io lo io finirei qua per oggi anche perché dobbiamo correre perché lo show floor per noi apre fra un'ora e noi abbiamo già un appuntamento con Ubisoft io non ho fatto la colazione nemmeno io e allora baby run ok e non ho nemmeno dormito per colpare il cinghiale questa te la riparte ma stai zitto ma stai zitto ogni tanto mi abbracci pure allora South Park lo vediamo stamattina quindi ragazzi sappiamo di non aver parlato di tutto siete stati tantissimi anche oggi più di 800 ricordatevi sempre intanto di iscrivervi al canale se ci state magari seguendo sulle repliche di Youtube se ci state seguendo su Facebook vi salutiamo anche tutti i ragazzi che ci seguono da là quindi iscrivetevi al canale per ricevere una notifica tutte le volte che andiamo online e vi ricordiamo che tutti i giorni saremo qua live dalle 5 del pomeriggio alle 6 lo facciamo anche venerdì abbiamo deciso magari magari un po' più rilassati magari in cucina mentre ci facciamo una colazione magari ecco faccio un po' di cucina e pancake mentre voi fate il Q&A è andata allora ragazzi venerdì iniziamo il Q&A alle 6 perché finiamo alle 11 esatto quanti pensi di fare di pancake per me per te 18 possono andare guarda è tutto ringalluzzito allora grazie grazie ancora Elblade chiede Cotolozza visto che ho imparato bravo bravissimo non mi sembra di averlo visto sullo show floor non ce l'ho neanche fra gli appuntamenti e questo un po' mi preoccupa perché il titolo c'era sembrato da rifinire Deep Down ragazzi invece è sparito è inutile tirarlo in ballo ragazzi quindi scusateci se non abbiamo risposto a tutto c'è ancora domani ah ok rapidissimamente proprio rapidissimamente in un minuto volevo raccontarvi quelli che sono gli nostri appuntamenti di oggi andiamo a giocare The Last Guardian sicuramente poi vediamo For Honor South Park e Steep il titolo dedicato agli sport estremi alla montagna quindi snowboard e parapendio vediamo Outlast 2 e anche Yooka Lely che è il sequel spirituale di Banjo-Kazooie tutta la line up di Devolver in cui c'è Shadow Warrior 2 Farpoint Allowords e poi ho anche delle interviste su Prey da Bethesda quindi quindi magari esce qualcosa di interessante c'è Allowords 2 tutta la line up di Focus Home quindi vediamo Space Hulk che sì Carlo c'è vediamo anche Vampyr Stix e Surge che sono comunque titoli abbastanza interessanti di fascia media ma che possono rivelare qualche riservare qualche sorpresa starò zitto ragazzi Kingdom Come Deliverance se lo va a vedere il buon firello se sbaglio tu devi la colpa al cinghiale ok se sbaglio io ecco il cinghiale ok cosa il cinghiale oggi è il cinghiale e poi abbiamo questo Sony TBA che in realtà penso proprio sia una presentazione che in realtà sono riuscito a fare ieri perché ero molto curioso ho chiesto se me l'anticipavano che era Days Gone e di cui possiamo parlare domani ragazzi grazie ancora ci vediamo domani sempre alle 5 dalle 5 alle 6 ciao su Evriai ciao 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 ciao